Sarebbero circa 20 milioni i contributi che Girgenti Acque avrebbe percepito indebitamente. Lo hanno reso noto i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo che insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Agrigento hanno notificato il provvedimento di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti di quattro indagati accusati di truffa aggravata e continuata. L'attività investigativa, fanno sapere i carabinieri del NOE di Palermo, ha permesso di accertare che la società Girgenti Acque, quale gestore del servizio idrico integrato AG9 di Agrigento, percepiva indebitamente i contributi previsti dalla legge regionale siciliana numero 9 del 2004 finalizzato al consentire l'equilibrio economico gestionale del piano d'ambito nonché applicando un indice di inflazione diverso da quello previsto la quota parte d'incremento della tariffa, quest'ultima corrispettivo del servizio idrico integrato con aggravio dei costi a carico della stessa utenza. L'ammontare delle indebite percezioni di denaro, concludono i carabinieri, è stata computata in circa 20 milioni di euro.